Musica Ben ritrovati gentili telespettatori, questo è il primo a TG Flash delle ore 18, andiamo con le ultime notizie dopo aver discusso nella giornata di ieri presso la Camera dei Deputati il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha parlato anche presso il Senato della Repubblica, andiamo ad ascoltare un breve estratto delle parole del Premier sulla crisi di governo che ha visto lo stesso ottenere la fiducia con una maggioranza relativa 156 sì, 140 no e 16 astenuti La prossima settimana non solo verranno consegnate in tutta Italia le dosi che sono state unilateralmente senza preavviso non consegnate questa settimana pari al 29% ma ci sarà una pur lieve ulteriore riduzione delle consegne ad affermarlo il Commissario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri nel corso di un vertice con le regioni, sottolineando anche come la comunicazione della Pfizer sia giunta solamente ieri e confermando inoltre un'azione legale contro la stessa azienda americana A cosa sono dovuti i ritardi nelle consegne del vaccino anti-Covid-19 prodotto da Pfizer? Ad estessamenti della produzione, almeno a quanto si apprende dall'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA Disguidi e ritardi infatti si devono al fatto che l'azienda sta cercando di aumentare la produzione e a fronte dei molti ordini ricevuti non ha avuto la possibilità di fare scorte di materie prime Ho ricevuto un'anime solidarietà da parte di tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome nel corso della riunione con i ministri, Speranza e Boccia ha detto Arcuri in merito La tutela della salute dei cittadini italiani non è una questione negoziabile La campagna vaccinale non può essere rallentata, tantomeno per le somministrazioni delle seconde dosi ai tanti italiani a cui è stata già somministrata La prima dopo una serie di comunicazioni con Pfizer proseguite per tutto l'arco della giornata di ieri e come spiegato allo stesso commissario per l'emergenza coronavirus che non ha assortito gli effetti che auspicavamo è arrivata quindi la decisione di procedere con le azioni legali per tutelare gli italiani in tutte le sedi civili e penali in cui ciò sarà possibile Come confermato da Arcuri infatti si è unanimamente deciso che tali azioni verranno intraprese a partire dai prossimi giorni in un quadro unitario Arcuri ha anche spiegato di valutare la presentazione di un esposto alla procura per impatto sulla salute per inadempimento del contratto pubblico Tra le ipotesi messe in campo ora c'è quella di un meccanismo di solidarietà tra regioni che prevede per chi ha conservato più dosi di cederne una parte a quelle che hanno somministrato meno e hanno tenuto quindi meno scorte con Campania e Veneto su tutte ma tra i governatori una linea comune attualmente non c'è con le regioni più virtuose che fanno resistenza e non accettano di essere penalizzate per aver rispettato le indicazioni date dallo stesso governo in quella direzione sembrerebbe invece andare la proposta di Luca Zaia governatore del Veneto in base alla quale le seconde dosi devono essere garantite da un magazzino nazionale tutti comunque chiedono garanzie come ribadito dal presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini e sia il governo che Pfizer non possono decidere dove devono andare i vaccini per questo motivo infatti visti i ritardi l'ipotesi più concreta al momento è di rivedere il piano della distribuzione degli stessi in modo che siano gli uffici del commissario a stabilire la rimodulazione della quantità e dei luoghi di consegna garantendo così in maniera equa e sulla base di criteri già definiti meno dosi per tutti una parte della facciata della chiesa di Santa Maria del Rosario Le Pigni è crollata per causa in corso di accertamento stamane in piazza Cavour nel centro di Napoli crollato anche un solaio con parte dell'edificio adiacente alla chiesa secondo quanto si apprende dalla polizia municipale che con i vigili del fuoco sta facendo accertamenti non vi sarebbero per fortuna dei feriti il crollo è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina la zona è molto frequentata accanto alla chiesa via la salita stella utilizzata da automobilisti e pedoni così come l'area di piazza Cavour la polizia di Stato di Salerno sta eseguendo una vasta operazione contro le infiltrazioni nel settore trasporto infermi e delle onoranze funebri la squadra mobile della questura con il coordinamento del servizio centrale operativo della polizia di Stato su delega della procura della Repubblica Distrettuale di Salerno sta in particolare eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore di Capaccio Pestum e di altre 10 persone accusate a vario titolo di intestazione fittizia di beni, riciclaggio, riempiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, peculato, abuso d'ufficio e falso turbata libertà degli incanti e demissione di fatture per operazioni inesistenti contestualmente la divisione anticrimine della questura con il coordinamento del servizio centrale sta eseguendo un provvedimento di sequestro di prevenzione ai sensi della normativa antimafia su proposta congiunta del procuratore della Repubblica e del questore di Salerno concernente beni di associazione di soccorso pubblico e ulteriori assetti societari per un valore di circa 16 milioni di euro la Guardia di Finanza di Firenze ha compiuto una maxi operazione antimafia eseguendo 34 misure cautelari ed altrettanti soggetti accusati di avere un legame con il clan dei casalesi queste persone operavano in Toscana con delle società edilizie investendo nell'immobiliare le forze dell'ordine hanno anche sottoposto a sequestro beni di valore superiore agli 8 milioni di euro le operazioni hanno toccato varie città tra cui Firenze, Pistoia, Reggio Emilia, Modena, Roma, Bologna, Caserta e Isernia il nuovo bollettino di aggiornamento pandemico da Covid-19 in provincia di Caserta come consueto diramato poco fa dall'ASL locale si certificano 139 nuovi positivi 186 persone guarite e 10 deceduti il numero di tamponi processati è di 2019 per un tasso di incidenza pari al 6,8% in linea con quanto evidenziato nelle 24 ore precedenti Maddaloni continua ad essere la città con il maggior numero di contagiati con 276 unità seguita da Mondragoni con 202 e Caserta con 189 adesso chiudiamo con il calcio perché dopo la grande vittoria di domenica il Napoli prepara la sfida di questa sera al Mapai Stadium contro la Juventus alle ore 21, Gattuto deve valutare la condizione degli attaccanti in particolare Petagna che non è al meglio anche se dovrebbe partire dal primo perché Mertens è ancora alle prese con dei fastidi alla caviglia, alle spalle dell'attaccante ex spal ci saranno Lozano, Insignia e Lati, Ezielischi, tre quartista centrocampo con ferme per Demme e Bacaglio Co mentre la difesa sarà composta centralmente da Coulibaly e Manolas ancora Ospina, portiere nei bianconeri scelte quasi obbligate per Pirlo con Kuluseschi che sembra favorito su Morata per un posto a titolare mentre in notizia dell'ultima ora Juan Quadrado ha recuperato ed è quindi negativo al Covid-19 e sarà questa sera regolarmente in campo e tra i convocati di Andrea Pirlo intanto parliamo anche di mercato perché il Napoli prova a comprare un terzino sinistro anche se la pista Emerson-Palmieri è difficile perché il Chelsea non accetta un prestito intanto Milik è oramai un calciatore del Marsiglia per questa edizione di Prima TG Flash è tutto appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali un caloroso arrivederci Grazie a tutti